Ciao, sono Eleonora, benvenuto al BricoCenter di Fano. Facciamo un giro in negozio, voglio mostrarti tante soluzioni per la casa e per il giardino. Il caldo sta arrivando, abbiamo per te tante soluzioni per raffrescare la tua casa. E per l'installazione, a tua disposizione i nostri artigiani qualificati. Siamo sempre a tua disposizione per aiutarti e consigliarti, ti aspettiamo! Grazie a tutti!